E' probabile che Mary voglia fare piazza pulita e ha ancora il controllo dei microchip vicini a lei dobbiamo disattivarli dal sistema di sicurezza se vogliamo evitare una strage perfetto Buon riparo! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Niente, non c'è nessuno. Cristo. Bene, beh, almeno i chip sono disattivati. Mary si è barricata nell'ufficio di sotto, ma il sistema centrale permetterà di rimettere in funzione l'ascensore. Ah, le guardie sono in allarme, quindi cerca di sopravvivere, ok? Ah, fantastico, davvero fantastico. Sono molto ben dest... Devi stare nei pressi del mainframe abbastanza lungo da permettermi di riattivare l'ascensore che porta all'ufficio di Mary. Fattuti, i microchip non vanno! Sono in ufficio! Sperate quei parassiti! Sperate quei parassiti! Sperate quei parassiti! Sperate quei parassiti! Ok, ora è davvero chiudo! Peter è morto! Portate subito qui il culo e sterminate queste platte! Sperate i piedi! Non ti hai metà presa! Dove siete finiti? Aiutatemi! Fate il vostro lavoro! Sperate il nostro canale! Fatto. Gli ascensori sono in funzione e ora hai l'accesso all'ufficio di me. Contenta, Temo? Dedsec, ma che diavolo state facendo? Avevamo un accordo, si fa a modo mio. È per questo che abbiamo raccolto tutte quelle prove. Ho le carte che ci servono. Le tue carte le impediranno di ammazzare gli schiavi. Quella è una cagna rappiosa, Lau. Non c'è tempo di discutere ancora su questa storia. Entra e bloccala senza darle il tempo di reagire. Io sto arrivando. Grazie. 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 Forza. Non mi servono dei cazzo di microcifero. per farvi fuori, bastardi! Dedsec, vero? Però, ottimo tempismo. La polizia arriva per te. Oh, ci conto, tesoro. Fermi tutti! Non avvicinatevi. Mary Kelly, sei in arresto. Tutto a sua, ispettore. Mi rimetto alla clemenza della corte. Ma non credo proprio che resterò dentro a lungo. E voi? Questa città vi ha rifiutato. Io ho dato un senso alla vostra esistenza. Ci rivedremo molto presto. Fermi! Non penserete che lascerà la sua balena bianca nelle vostre mani? Chi vuoi proteggere? Il sistema o la gente? Prometticelo! Promettici che non la farà Franca! Che cazzo di... Vai, me ne occupo io. Bene, Dedsec. È andata come speravate. Mary non potrà più cavarsela in nessun modo. Volevo agire secondo le regole, ma dopo quello che ho visto, immagino che non potessi lasciarla vivere. Se l'è cercata, Lau. È quello che si meritava. Per tutto quello che ha fatto passare a quelle persone. Per Angel. Hai fatto la cosa giusta. Se tratti la gente come animali, prima o poi ti azzannano alla gola. Si fotta, Mary Kelly. La sua fine se l'è meritata. Non lo so. Giustizia è stata fatta, ma non quella che intendevo io. Per lo meno, non quella che intendevo all'inizio di questa storia. Beh, la regina sarà anche morta, ma tra gli scagnozzi di Mary Kelly, in molti vorranno la sua corona. Hai ragione, Bugly. Starò allerta. Se dovesse aggiungermi voce di nuove scorribande del clan Kelly, sarete i primi a saperlo. Siete degli ottimi partner, Dedsec. Continuiamo così. Siete degli ottimi Siete degli ottimi